il grido di radio lasagne verdi si fa sempre più incisivo e sempre più forte soprattutto quando ai nostri microfoni abbiamo personaggi che letteralmente ci fanno volare alto ma chi mi hai portato oggi vediamo un poco vediamo se i nostri ascoltatori nei primi 47 microsecondi lo capiscono con un solo ciao da parte del nostro special guest ciao attenzione vorrei dire delle cose censurabili quindi non posso dirle sono contro la censura aia 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 quindi che facciamo salvatore apriamo i nostri microfoni a tutto noi siamo tranne io insulti alla mamma no no insulti alla mamma ne insulti razziali no quello quello assolutamente solo marcello possiamo insultare dalla possenza si dice possenza sì tu puoi dire ciò che vuoi e da tutti questi termini aulici avete capito che qui abbiamo una personalità e se ho detto vogliamo alto stasera a radio lasagne verdi qui dalle mette dai microfoni situati in sala consiglina è perché abbiamo una mosca che vuole un po ovunque soprattutto sulle cacche devo dire sì vanno vanno denunciate le cose brutte quindi volo su sulle fesci però piuttosto di volare diciamo su cose brutte oggi voleremo sui fiori di un comune del comprensorio valdianese e precisamente del parco del cilento vallo di diano e alburni che si chiama polla 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 tutto insieme polla 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 fighissimo abbiamo anche la club e questa cosa assume una narrazione ancora più incisiva perché stiamo facendo questo questa ola al comune appunto polla qui nel vallo di diano e lo stiamo facendo da sala consiglina rivalità storica considera che a polla per anni c'era una scritta polla vomita sala fame a sala c'era il contrario per questa lite assolutamente quando io a 15 anni veniva a sala avevo paura ma adesso non più ovviamente siamo tutti amici infatti ma guarda io questa cosa l'ho vissuta solo attraverso i racconti perché a me non è mai capitato di incontrare di assistere ad una lite solo per la residenza questa cosa ma ultima sì per fortuna per fortuna no prima era anche perché non ci si vedeva si stava tutti i suoi social siamo tutti amici ci vedevamo il sabato sera se la spallata la botta e poi era tutto un pretesto per litiga sì sì o per bene o per bene però siamo tutti figli di uno stesso passato quindi polla sala con selina e tutto il resto io sono di polla perché abito a polla anche se sono nato a santarseli perché sono figlio del terremoto quindi l'ospedale di polla non funzionava e poi pollese doc innamorato di polla bellissimo dichiarazione d'amore esatto e questo è l'assist perfetto perché ora abbiamo caricato i nostri ascoltatori di quell'adrenalina che dicemo spacco tutto però in realtà ora tu sei conosci stai nel mondo della radio da tantissimo tempo quindi ti lancio questa challenge e la challenge è esattamente questa hai imbarato parole inglesi cioè i brividi guarda i brividi in guolo questa parola il periodo che si sta da torino da esatto 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 ma perché dopo tutto quello che sta succedendo qui a radio lasagne verdi i nostri palcoscenici si devono fare sempre più international quindi torino è fuori capito internazionale torino sta qua a piedi mondo esatto 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 c'è parenti a torino però diciamo ora torniamo da tutti quanti i lati del mondo parliamo anche in anche inglese però dobbiamo parlare di polla cioè che questo è il nostro focus point tonight e dipende quando si ascolterà questo audio ma devi questa è la challenge devi disegnare polla nella mente dei nostri ascoltatori considerate una stella con i suoi cinque bracci poi la vista dall'alto è una stella che si dirama in cinque lati e al fulcro nel centro storico con il convento ok grazie per l'ascolto possiamo anche chiuderla qui null'altro da aggiungere tutto l'unica cosa c'è una cosa bella vai voi avete una collega in spagna giusto esatto fatele mettere la maglietta polla e girare per la spagna ce l'ha proposto io l'ho fatto perché non lo sapevo che cosa significava in spagnolo che significa marcello il membro maschile praticamente polla io giravo con la maglia ero a civiglia polla tutti che ridete che che ridete poi ho capito che giravo con la maglietta che ho scritto io sono bene bravo sì e poi quando vengono gli spagnoli qua fanno sempre la foto sotto a benvenuti a poia e secondo te il nome di polla deriva proprio da questo polla deriva dall'amore dall'amore dal bacio è una storia d'amore bellissima ha varie origini il nome di polla quello che scelgo io è quello romantico stranamente raccontacelo è la prima volta che lo sento c'era in steia polla che era una sacerdotessa in epoca romana si innamorò di lei all'epoca si poteva un quarantenne in caio senorufo lei aveva 14 anni e lei stava a buccino la portò a polla comincia una storia d'amore che durò tantissimo tempo quando morì caio senorufo in steia polla per il mausoleo tuttora presente a polla e quindi non era il mausoleo di caio senorufo ma il mausoleo di steia polla perché lei aveva fatto questo che era una tomba per amore per ricordare sempre il suo innamorato quindi il nome di polla nasce dall'amore wow pensate pensate un po il nostro parco il parco del cilento e valo di diano cosa racchiude cioè delle storie assurde non so se questa sia frutto della tua fantasia no 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 però è l'altra ipotesi è ampolla sorgente d'acqua quindi l'ampolla che esce l'acqua che esce dal sant'antuno quindi quella anche l'altra ipotesi io preferisco quella romantica sei più sentimentale no ci ho fatto un corto quindi mi promuovo era già pronta non è che hai organizzato il corto solo per poi venire a parlarci di questo considera sette anni fa io volevo stare qua con voi in realtà pasquale sorrentino è un viaggiatore nel tempo tu fra i trent'anni te lo dico dove sei qua con me a bere birra kaiser esatto e invece parliamo un po di quelle che sono delle tradizioni che si svolgono a polla noi sappiamo benissimo viviamo la tradizione di sant'antonio che non è il santo patrono viene festeggiato più del santo patrono allora il santo patrono è san nicola 6 dicembre ma sant'antonio è l'amico diciamo proprio quello che a polla si bestemmia sant'antonio per affetto c'è il convento di sant'antonio lo venerano e c'è una fede enorme c'è anche un miracolo con la statua che ha lacrimato circa dieci anni fa quattro miracoli di persone che hanno pregato la statua poi chi crede e chi non crede non sta a me dirlo io ho intervistato il frate che l'ha visto per primo questa lacrimazione era frammimbo è frammimbo che mio cugino tra l'altro tutto rientra nella famiglia un saluto al cugino che ha visto queste lacrime scendere dalla statua dopo che gli occhi si sono fatti rossi questa è la parte religiosa che ripeto possiamo credere o non credere la tradizione quella bella popolare è sant'antoniello che è il giorno prima il 12 giugno una statuina piccolina che fa il giro di tutto il paese fai tre giri attorno ai fuochi che ogni rione accende circa 30 fuochi diciamo che poi ogni rione si beve quindi se uno segue la processione il trentesimo fuoco lo vedi o non lo giri o giri senza che c'è il fuoco ed è una cosa poi è molto 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 carina ci sono migliaia di persone affascinanti la solita fermata però è tutto gratis la cosa bella non è una sagra dove c'è chi vende no è solo devozione solo devozione solo le persone che offrono ai passanti soldi pollesi ma non solo il vino il panino la pezza di parmigiana oppure alla fine della corsa sopra al convento di sant'antonio panini gratis per tutti molto c'è c'è una spiegazione o perlomeno un aneddoto che racconta questa cosa di un'affezione cioè essere maggiormente legati a sant'antonio piuttosto che al santo patrono questo non è il convento il santuario di sant'antonio che del 1500 quindi per i pollesi è sempre visto là fisicamente san nicola c'è la chiesa un po più chiusa nel centro storico bellissima però è solo una questione di visibilità e tant'è vero che appolla è terra di frati francescani del comune di sant'antonio almeno io ne conosco sei o sette della mia generazione quindi 30 e 30 anni che di solito con la vocazione che c'è è un record quanto o meno i voi frati sant'antonini abbassiamo abbassiamo un po il livello del discorso quindi ritorniamo alla parte ignorante esatto ritorniamo alla parte ignorante l'accento perché parliamo napoletano i salesi dicono che i pollesi parlano napoletano perché il pollese vero non c'è secondo me perché tre generazioni al massimo dietro non c'è il pollese doc di tante generazioni che quindi ha imparato la lingua siamo un punto di ritrovo tra tanti posti varie parti sì punto di ingresso del valodiano molto napoletano parlo io cioè se ha già parlato da pollese parla così che non è salese salese è più è tipico il caggianese è tipico il santarsanese aggret è tipico pollese non c'è neanche un piatto tipico per dirti per questo motivo secondo me c'è poca c'è un mix un cocktail di è un melting pot che ha detto che ha detto questa roba in inglese non lo capiamo no no pensavo un incontro di più cultura si drogasse però è buona questa droga quando devi fare gli esami faccelo sapere assolutamente faccelo provare comunque sì siamo un incontro di culture che non ci ha dato una tradizione ma ci ha dato tante tante lingue tanti cibi e quanto altro per i viaggiatori del parco del che poi visitano il nostro parco alcuni già sono stati a polla altri invece probabilmente verranno e devono sapere che a polla c'è il ponte è un punto di riferimento ponte romano ponte romano che più o meno risale a qualche ai romani a diverse centinaia di anni di vita la domanda a voi salese quando uscite che dite dove ci vediamo sandan baffo invece mezzo ponte c'è noi anche se vai a un'altra parte che piazza antonio forte diciamo è distante un chilometro io scendo in mezzo ponte c'è vado comunque al ponte cioè significa andare sulla strada principale e il ponte è un punto di unione fra i due lati di pollo tanagro forse l'unico dei pochi paesi che è attraversato dal tanagro adesso così a memoria non ce ne sono altri nel parco c'è un'altra cosa che invece voglio dire proprio prima di passare di andare ai saluti che è il ponte di polla che per chi ancora non lo conosce un po lo disegniamo appunto con le parole che questo appunto divide un fiume il ponte sopra su questo ponte all'inizio del ponte c'è un albero su questo sotto questo albero di giorno è un po un ritrovo per le persone anziane vero è se si metto parcheggiano là esatto si parcheggiano lì letteralmente e c'è questo diciamo circolo di vecchi amici ed è bellissimo questa è una cosa che vivo io ogni volta che vengo a polla che questo diciamo questa esperienza di persone anziane che durante il giorno stanno sotto l'albero come punto di incontro la sera si trasforma in tutti un punto di incontro per i giovani cioè si mettono i giovani cambia questa il target ma quello sai perché sembra lo stesso discorso di prima di paolo sorrendino che viaggia nel tempo paolo il regista di vincitore dell'oscar pasquale so io ma forse che era maronna per me vincis praticamente polla magari con il corso delle 24 ore spettacolo torna tutto indietro nel tempo quindi quei vecchi quegli anziani che tu vedevi seduti sono loro da giovani capi oppure i giovani vanno avanti nel tempo sono loro anziani dipende da che punto però questo è male come però questa non è una stupidaggine no 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 è una cosa che non torna davvero è su me fa parte del dna pollese quel posto quindi può essere non l'avevo mai vista dal punto di vista mi apre di guardare con gli occhi di chi di esterni ti dico una cosa però su quel posto hai presente la cappella c'è una cappella di santa barbara di fronte abbastanza grande quella fino a 30 anni fa era dall'altra parte quando hanno fatto la strada che è parallela al fiume con delle ruspe l'hanno alzata fisicamente senza fatto coming out si è passato dall'altra sponda si si santa barbara è passato dall'altra sponda che capito che tu sai che sei l'argomento lo conosci bene marcello grazie a marcello grazie a marcello che ci ha spiegato bene come è passato dal lancio il giavellotto al giavellotto e basta esatto questo stiamo esagerando non è proprio c'è tante piccole storie ogni paese c'è tante piccole storie noi abbiamo il miracolo la piazza santa barbara abbiamo il fiume danagro il mausoleo che c'è anche se abbastanza ridotto male c'è tanti posti l'orologio che si vede dal ponte ci dice che siamo in chiusura abbiamo purtroppo quello è l'orologio san nicola che è un altro grande punto e da lì parte una sirena alle 8 di mattina alle 12 perché all'epoca chiamava i contadini che andavano a lavorare nei campi lontani quindi la suona della sirena diceva alle 8 dovete andare a mezzogiorno e mangia che tra l'altro è un'altra caratteristica di polla cioè se quegli orari ancora si rispettano tuttora è un monumento acustico lo definito ma poi l'estate non dà fastidio quella sirena sì infatti qualcuno ha fatto un esposto per il paladoglio domenica mattina sì quello ma pur in inverno domenica mattina sì no quello sì però è ormai fa parte del DNA dei poesi e quel rumore che tu senti non lo senti neanche più ormai vero ormai fa parte dell'orologio biologico per chi visita il parco del cilento vallodidiano ed alburni secondo te quanti giorni deve stare a polla per viverla tutta deve vivere due giorni soprattutto se c'è un evento che si chiama restate ragazzi che organizzo per questo lo dico ad agosto perché può far vedere il pomeriggio tutte le bellezze che abbiamo detto oggi la sera vivere il centro storico noi apriamo le vecchie botteghe con vino fatto da noi e cibo fatto da noi quindi assaporare anche i nostri prodotti dopodiché il giorno dopo farsi una passeggiata lungo il fiume tanagro e poi andare a vedere un altro paese del vallo del diano ovviamente tu sei il mio invitato tu bevi con me io 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 comando la non è vero il comando però bevi con me grazie mille pasquale ci vediamo allora tutti quanti a polla ci vediamo a polla e poi ci vediamo nel parco del cilento vallo del diano e alburni grazie mille a presto ciao